Dal punto di vista dell'allenamento, probabilmente la parte più complicata per me è proprio la gestione vero e propria dei tempi di allenamento. Dovendo mandare avanti il box, facendo le classi e i mille altri impegni, trovare il giusto tempo da dedicare all'allenamento, credo sia la cosa più complicata. .